Ciao, sono Diego Spitaleri, sono nato nel 1959 e dal 1979 suono professionalmente jazz. Sono anche un compositore, infatti mi piacerebbe partecipare a Milano Piano City 2015 per presentare alcuni miei brani composti per pianoforte solo. Il brano che adesso eseguo è un piccolo estratto da un brano appunto di mia composizione che si chiama Si Dance. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.